rieccoci qui con le fonti tv dalla decima edizione del salone del risparmio sono in compagnia di gianluca maione di investec grazie per essere qui con noi allora tematica isg la fa ovviamente da da padrone per questa edizione ma c'è chi come voi già in tempi non sospetti in realtà aveva applicato i criteri sri e in generale degli investimenti sostenibili come buongiorno a tutti sì sicuramente mi piacerebbe fare una piccola provocazione nel senso che isg è una tematica molto diffusa in questo momento e ha chiaramente un molto appila anche sulla domanda dell'investitore finale però possiamo dire che ora è una corsa a queste tematiche ma dal 91 per cui in tempi non sospetti in Sudafrica cioè in un paese ancora in pieno apartheid in quel momento abbiamo iniziato letteralmente dal primo giorno a gestire i risparmi dei nostri clienti con un occhio attento alle tematiche che adesso sono tanto di moda per cui inclusione sociale ovviamente è inutile specificare le tensioni graziali che esistevano in Sudafrica in quel periodo e impact investing per cui tutto ciò che facevamo aveva un impatto sulla società che abitavamo questo è stato parte del nostro dna letteralmente dal primo giorno dell'attività di investe cassette management per questo che ora non è per noi importante recepire qualche nuova direttiva qualche nuova moda che è questo isg tutte le nostre strategie trasversalmente sono integrate con dei criteri di selezione isg è chiaro che poi ci adoperiamo anche a lanciare tematiche di investimento specifiche e nella fattispecie quelle ambientali la decarbonizzazione dell'economia e cose di questo tipo però ripeto dal giorno 1 da tempi non sospetti esg fa parte di investe cassette management perfetto per cui insomma nessuno può dire che siete arrivati con quell'effetto di greenwash che in tanti hanno comunque etichettato rispetto invece alle vostre strategie su cui adesso vi state posizionando che cosa possiamo dire ai nostri telespettatori allora partendo chiaramente da più lontano restando su tematiche di impact investing noi abbiamo a disposizione un'ampia gamma di private markets investimenti in private markets che siano infrastrutture immobiliari credito o private equity africani per cui tutti investimenti che hanno un impatto diretto e immediato sulle economie locali e le comunità locali per cui abbiamo svariati esempi di di costruzioni che ne so di ponti o impianti di irrigazioni che hanno dato un impatto immediato al benessere alla prosperità delle comunità locali avvicinandoci però ai nostri investitori italiani abbiamo una gamma usits una sicav lussemburghese che distribuiamo qua in italia attraverso vari vari partner locali e ripeto tutte le nostre strategie hanno isg integrato nei processi di investimento la novità che punta chiaramente intercettare chi è più sensibile su questi temi è il lancio di un fondo che si chiama global environment che ha chiaramente l'intento di cogliere i benefici della decarbonizzazione e dell'elettrificazione dell'economia per cui non soltanto escludere determinati settori ma puntare su quei settori che ne trarranno benefici è interessante anche questo fatto di una strategia che non vada solo per sottrazione di quelli che sono gli ambiti che sappiamo insomma anche altre società di investimento partiamo dall'escludere però anche del puntare quindi con una logica di impact investing in concreto io ringrazio nuovamente il nostro ospite per essere stato con noi non mi resta che lasciare la linea allo studio